Quanti sono? Impariamo i numeri con gli animali pop-up. In mezzo alla giungla o nel mare più blu, laggiù sotto terra o nel cielo lassù, gli amici animali ti stanno aspettando. Con loro potrai imparare giocando. Il polpo ti insegna a contare fino a otto, ma per continuare tu chiedi al tigrotto. Con lui fino a dieci impari a contare. Coraggio, iniziamo, non c'è da aspettare. Sul muso ha un nasone il grosso elefante, si chiama proboscide ed è stravagante e quando fa caldo lui sventola piano le due grandi orecchie. È davvero un po' strano. Tu sai come fa a catturare gli insetti? Il camaleonte ha tre corni. È curioso. Lui cambia colori in modo ingegnioso. Con quattro zampetti si aggrappa le piante e attende le prede. Però che birbante! con la lunga lingua, ahimè, poveretti! Le cinque farfalle qui vedi volare in cerca di fiori da poter zucchiare e la coccinella laggiù sul dorso a sei macchie. Le vedi anche tu? Ci sono sette pesci che nuotano qua e là. Non hanno né zampe e questo si sa. Invece c'è polpo che viva appartato e ha otto tentacoli. Che esagerato! Tu sai dove il polpo poi va a riposare? tra i sassi e le rocce del fondo del mare. Là sulla coda l'allegro tigrotto a strisce più scure sono nove, non otto. Se poi lui ti mostra le zampe davanti vedrai dieci artigli. Eh sì, sono proprio tanti. Le noci di cocco di queste scimmiette. Sai dir quante sono? Son dieci? Son sette? Ed il fenicottero di zampe ne ha quante? E poi quanti rombi ha il serpente elegante? Il fenicottero ha due zampi, il serpente ha nove rombi sul dorso, le noci di cocco delle scimmiette sono otto.